Si chiude con una prova per quattro anni a reclamare, sette Alvia, uno Divina di Casei, due Danubio Tav, tre Dei Ozz, quattro Dulcinea di Casei, cinque Dama Bianca Par, sei Dark Angel, Fee, seconda fila, sette, Dallas dei Greppi, autostart che inizia ad accelerare, si ritrae Dark Angel Fee, partiti con Dulcinea di Casei al comando su Danubio Tav che scende secondo avanti a Divina di Casei, di fuori rimane Dei Ozz, poi allo steccato Dallas dei Greppi, quindi Dama Bianca Par alla retroguardia di Dark Angel Fee, si completano i 200 metri d'approccio in 15, Dulcinea di Casei all'avanguardia seguita nelle mosse da Danubio Tav, Dei Ozz che risale trascinandosi Dama Bianca Par poi alla Corda Divina di Casei e alla retroguardia Dallas dei Greppi. Quattrocento passati in trenta e mezzo con il, con la leader che gradua piacimento, oggi più gestibile rispetto all'ultima occasione, Dulcinea di Casei con i sacchi Maurizio Kelly passa i 600 metri in quarantasei e mezzo, viene al passaggio davanti alle tribune con una lunghezza nei confronti di Danubio Tav che rimane secondo, Dei Ozz sempre allo scoperto con i scia Dama Bianca Par, poi ancora Divina di Casei, Dallas dei Greppi, Dark Angel Fee, 1-1-3 per il mezzo miglio di gara, Dulcinea di Casei sempre all'avanguardia, Dei Ozz che si piega un po' sulla curva, deve subire, sbaglia Dei Ozz, il chilometro se ne va in uno sedici e sette, Danubio Tav rimane secondo in corda, tende ora a muovere all'esterno in anticipo su Dama Bianca Par, guadagna di dentro, allora Divina di Casei a quattrocentocinquanta dalla conclusione, accelera Dulcinea di Casei, fa un quindici per la retta di là, prova a mettere in difficoltà gli avversari, lungo la corda Divina di Casei ha spostato a largo Danubio Tav che per il momento fa fatica di ingambarsi, cerca di venire in mezzo alla pista, Dama Bianca Par, duecento metri dalla conclusione, Dulcinea di Casei ha il comando, Divina di Casei che prova ad andare lì dentro, poi ancora Danubio Tav, Dulcinea in vantaggio nei confronti di Danubio che torna sul passo, in vantaggio Dulcinea, Danubio che rimonta, Danubio Tav che vince nei confronti di Dulcinea di Casei al terzo posto Divina di Casei. 1-15-1, raguaglio cronometrico, Danubio Tav, Claudio Monte per il training di Gennaro Casillo, i colori del signor Brunellesco Beccagli, la vittoria per il figlio di Man of Many Mission che sposta gli ultimi cinquecento metri va di fuori a Dulcinea di Casei, si accontenta sulla curva, una volta vista la retta parte di passo diverso e viene a passare netto, una lunghezza e mezza sul palo, il successo per Danubio Tav, Claudio Monte, Gennaro Casillo, Brunellesco Beccagli. Grazie a tutti.